è grosso questo è grosso un bel po arrivano i cuccioli no non è il cucciolo quanti sono? papà te ne mangiare tutto il stacco di pappà ora ordiniamo da mangiare ma qua che ne andai papà il cigiale? non c'è più ma guarda quanti sono? 5? 8? e vado a fustare si